Oh yes! Bentornati ovetti su Pokémon Ultra Sole! Nello scorso episodio abbiamo finito gli eventi di Melemele, completando l'ultima prova, che teoricamente è la prima prova V2, di Liam. E in questo episodio faremo gli eventi del post-game di Akara, cominciando dalla battaglia contro Murimoto. Quindi andiamo subito a Kantai e prepariamoci per Codestalotta. Allora, da quello che so, Murimoto usa i Pokémon che gli sono piaciuti di più di questa gen? Così era in Pokémon bianco e nero. Potrebbero aver modificato le cose anche perché non credo di aver mai affrontato Murimoto su Luna. Quindi, wow. Comunque, gli uffici della Game Freak sono proprio qui dentro. E vi ricordo, qui, se entrate e parlate con questo qua, è possibile cambiare il metodo di movimento negli ultravarchi. Detto questo, eccoti qua. Io me ne intendo di lotte. E anche il Game Director non è male. Game Director. Non è forte quanto me, ma sei la cava. Che ne dici? Vuoi sfidarci? Ovviamente sì. Ottimo, diamoci dentro. Ehi, wow. Vieni un attimo qui. Eccomi. Oh, una lotta? E va bene. Sono pronto a vincere. Addirittura una lotta in doppio. Inoltre, credo che quello sprite del... Cioè, di wow sia customizzato. Credo sia l'unico nel suo genere. Comunque, nel frattempo, vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, barra un non mi piace, a rispondere alla domanda del giorno e ad iscrivervi al canale. E a quanto pare, mi sbagliavo. Non sono i Pokémon preferiti. Vabbè, potrebbero pure essere. Comunque, ci interessa di più che sono di livello... 57-56. Quindi non dovrebbero essere così complessi da sconfiggere. Vai, fango bomba! Addio, Kecleon. Almeno credo. E invece no, invece no. Psichico invece mi fa parecchio male. E mi manda quasi KO. Brutto colpo, va bene allora. Ko-Tata-Zen! Addio, Gengarue. Va bene, non importa. Cosa fa Kecleon, però? Questo è il problema. Beh, intanto Akatosh sale, quindi... Eh, niente male. Niente male, davvero. Dicevo, cosa fa Kecleon? Usa frana! Mutatipo! Ouch! Questo fa male ad Akatosh. Esatto. Non fa male per niente a Nietzsche, ma... Povero Akatosh. I brutti colpi capitano, quindi non è colpa mia. Allora. Vai, Lerage! Così posso demolire Kakrion. Allora, secondo Pokémon di Morimoto. Dragonite. Ouch. Abbiamo un modo per colpirlo. Abbiamo frana che colpisce entrambi. Ci conviene allora fare frana e... Pestone su Dragonite. Dovrebbe andare bene. Magari lo faccio dentennare. E se ha molti squame glielo tolgo. Tifone. Ecco. Questo fa male. Fa parecchio male. Ora. Colpisci con frana. Nietzsche. Ah, ovviamente. L'unico che deve essere per forza colpito... Non importa. Non importa. Non importa. Addio Kecleon. Allora. Secondo Pokémon di Iwao. Adesso ho un piccolo lapsus di... Chi sia Iwao. Ok. Sono sicuro di saperlo. Ma non me lo ricordo. Quindi per adesso chiedo Venian. Non me lo ricordo. Ehm... Ah, il Game Director. Zzz. L'abbiamo letto prima. Ok. Non colpirti da sola. Si è colpita da sola. E Tifone colpisce le rage. Sto avendo molta sfortuna ma... Si può rimediare. Si può rimediare. Inoltre Blissy non è per niente... Forte. Si potrebbe dire che è una frana in difesa fisica. Eh? Ah, quanto sono divertente. Inoltre prendo un sacco di esperienza grazie a Blissy. Esatto. Guardate quante ne ho presa. Tanto per dimostrazione. Ok. Mandiamo l'Eucotea. Ok. La scelta più sicura è sempre l'Eucotea. Quindi vai cara. Adesso ultimi due Pokémon. Ma Champ. Bene. Quindi tutti i Pokémon di prima gen. E Ambipom. Di quarta. Ok. Facciamo una cosa molto bella. Martelpugno su Ipom. Ambipom. Che probabilmente userà Bruciapelo. E... L'Eucotea se poi usa Forza Lunare su Machamp. Usa Bruciapelo? Non usa Bruciapelo. Addio. Ambipom. Eh eh. Ok. Non importa quello che vuole fare Machamp. Perché siamo più veloci. Addio. Eh. Un attimo. Mi sono appena accorto che Nietzsche adesso è più veloce di l'Eucotea? Com'è possibile? Beh. Non ha la migliore velocità del mondo. Ma non lo pensavo così veloce tra virgolette. Comunque. L'importante è che abbiamo sconfitto Iwao e Murimoto. Sono il numero uno. Sono un fenomeno. Almeno nei miei sogni. Ah. Ho perso. Complimenti. Niente male la tua strategia. Accidenti. Ci sai fare con le lotte. Sentivo già l'odore della vittoria. E invece... Ci è dato una bella lezione. Bel lavoro. Complimenti. Hai allenato proprio bene i tuoi Pokémon. Ecco. Lascia che li rimetta in sesto. E poi... Ho anche un regalo per te. Dovrebbe regalarci. Esatto. L'Ovamuleto. Che è indispensabile se volete fare un po' di breeding. Ok? Possiamo lottare una volta al giorno. O torna domani se vuoi. Ma se mi sarò dimenticato di te. Non stupirti. Ho talmente tanti sfidanti. Sì, sì. Un modo per coprire gli errori, tra virgolette, di programmazione. Comunque. Basta lotte per oggi. Ripasto domani. Allora. Vorrei controllare alcune cose. Perché mi avete detto che c'è qualcuno là, Game Freak, che dice qualcosa di interessante? Ehm... Ok. Va bene. Sei tu? Buongior. Ovunque vado nel mondo incontro sempre un sacco di allenatori di Pokémon. La cosa mi rende felicissimo. Non è lui. So che c'è un riferimento a qualcosa di strano. Ok, va bene. Sei tu? Ciao, sono il Game Director. Il Pokédex Rotom è uno spasso, non credi? Ogni tanto dà fastidio. Comunque, se finite il Pokédex di Alola e parlate con i Wow, vi darà... Ehm... Come si chiama? Il Chromamuleto. Ok. Adesso, invece tu... Ah, ti piace giocare ai videogiochi? Noi qui sviluppiamo videogiochi. Qual è il tuo colore preferito? Verde. Il verde, eh? Bene, bene. Sei una persona che non si lascia influenzare facilmente. Cosa vuol dire che non mi lascio influenzare facilmente? Qui alla Game Freak. Sono tutti ghiotti ridolciumi. Se lasci qualcosa ridolce in giro, sparisci un attimo. Tieni, prendi anche tu questa bevanda zuccherata. Cosa sarebbe? Un lemon succo. Ok. Fai buon viaggio con i tuoi Pokémon e divertiti. Perfetto. Abbiamo finito i nostri affari qui alla Game Freak. Non credo di essere mai salito qua sopra, però. Cosa c'è qua sopra? Ah, è vero. C'è una parte del... Del Lither Paradise, giusto? No. Della fondazione Ither. Ecco, non dell'Lither Paradise. Ehm... Ok. Di preciso cosa c'è qua, però. Wingull. Cos'è quello? È un... Oh! È un Blitzel. Carino. Ehm... E basta, non c'è nient'altro qui. C'è un Poliwhirl. Credo non ci sia nient'altro. Ok. Ehm... Aspetta, aspetta. Sto accettando una quest, ma... Pokémon altrui. Ho accettato una quest senza sapere niente. Yeeeh! Chissà se il legame fra l'allenatore e Pokémon rimane intatto, anche se uno dei due sparisce. Non ne ho idea. Dovrebbe essere originario di Ula Ula. Ehm... Lo cercherò. Se lo trovo, buon per noi. Se non lo trovo, pazienza. Fondazione Ither. Già lo sappiamo. Ok, allora. Prossima cosa della giornata. Abbiamo da fare, eh? Devo leggerlo un attimo perché non lo so. Ehm... Vediamo un po'. Devo andare dal percorso otto. E... A quanto pare posso fare una cosa a Viale Royale. Quindi andiamo a Viale Royale. Dove da qualche parte dovrebbe esserci... Non sei tu? Ma da qualche parte dovrebbe esserci... Qualcuno. Facciamo una cosa. Mi curo, nel frattempo cerco questo qualcuno. Oh, intanto ho trovato un adesivo del dominante qua nel... Nel coso della Battle Royale. Ma da quello che ho capito, qui dovrebbe esserci... Ma non lo trovo. Un tizio molto importante. E un altro adesivo del dominante. Ne abbiamo 79 su 100. Bene. Ok, se non trovo questo tizio non è un problema. Mi darebbe un po' di fastidio, ma... Ehm... Allora, qui non c'è quasi nulla da fare a quanto pare. Bisognerebbe allenarsi e fare un sacco di Battle Royale per arrivare al livello Master. Ed è questa la cosa che bisognava fare. Ho letto male un po' la checklist. Non c'era scritto incontra Mr. Royale. C'era scritto fai la Master Battle Royale. Che non è per niente la stessa cosa. Però, adesso, andando nel percorso otto... E mi conviene sbrigarmi. E ci sono Pokémon qui. Non ho mai visto un Pokémon in questo tunnel. Ed è un Keckleon. Che si possa trovare solamente dopo la Lega Pokémon. No, non credo. Comunque è di livello venti, appunto. Quindi si poteva trovare anche prima. Solo che non l'avevo mai visto. Va bene. Non è nessun problema, almeno credo. Adesso, tornando nel percorso otto. Dovrebbe esserci un'altra volta da qualche parte in questo percorso. Forse, se niente mi inganna. Eccolo qua. Ehi tu, conosci il Pokémon chiamato Genesect? Beh, sì, lo conosco. Non avevo dubbi. Per ottimizzare le prestazioni del cannone servono i moduli degli scienziati del laboratorio P&P. Io ho questi. Ma a me non sono molto utili. Prendivi tu. Sono sicuro che ne farei buon uso. Ed è qui che si prendono appunto gli idromoduli. Quindi un idromodulo, ecco. E il voltmodulo. Credo siano solo questi due. Ah no, li da tutti quanti? Ok. Anche piromodulo e... Ghiaccio modulo? No, gelomodulo. Ok. Tutti quanti i moduli per cambiare la mossa tecnobotto di Genesect. Non che sia molto utile, ma... Credere nei Pokémon non rende automaticamente tutto possibile. Ma se credi nei Pokémon, alcune cose saranno di sicuro impossibili. Se non credi, vabbè. La fiducia fra allenatori e Pokémon può fare una differenza in molti casi. Tu sei già stato a Pony, vero? Lo sai che lì c'è una struttura per le lotte di Pokémon chiamata Albero della Lotta, no? Non vedo proprio l'ora di scoprire che strategie usi nelle tue lotte. Esatto. Adesso Acromio andrà nell'Albero della Lotta. Lo potrete trovare lì. E reclutare, appongerei. Se volete farlo. È un esperto di Pokémon di tipo... Credo acciaio. Non quanto Tapsu. Comunque, altre cose da fare. Controlliamo. Sì. Allora, siamo stati a casa di Kawe, nello scorso episodio. Possiamo andare a Konikoni per andare a casa di Suiren e a casa di Ibis. Per fare altre due cose. Quindi, vediamo un po' che altro si può fare qui. Adesso... Dovrebbe essere questo? Sì. Ciao, Ibis. Si parla tanto di cibo per Pokémon. Ma per me la gioia più grande è vederli mangiare le stesse cose che mangiamo noi. E sfoggiare gli inter... Eh... Interessi. Sì, come no. Gli stessi sorrisi e smaglianti. Ok, quindi non devo fare così. Oh, fermi, 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 fermi. Adesivo nel Dominante. Ne abbiamo 80 adesso. E anche un Pokémon Dominante nuovo. Ciao, sono io, Manuel Oak. Vedo che hai preso un bel po' di adesivi nel Dominante. Dobbiamo vederci. Ti aspetto sulla spiaggia di Kantai. Ok, tra poco ci andrò. Però prima... Sì, voglio un tavolo. Menù Zeta? Andiamo per il Gusto Misto. Che al massimo ci dà... Sì, lo voglio, lo voglio. Ci dà almeno un bel po' di roba. Salve, avete un tavolo libero? Questa è una cosa che volevo mostrarvi anche l'altra volta. Per l'altra volta intendo dire... Quando ho preso un bel po' di squamecuore. Ok? Andando nei ristoranti e ordinando qualunque piatto, vi daranno un bel po' di squamecuore. Le squamecuore vi servono. Ah, che delizia! Il cibo è uno dei miei punti reboli. Nutro una profonda ammirazione perché cucina in modo sopraffino. Ma... Ma... Tonks, hai sfiorato appena il tuo piatto? Non... Non ti è piaciuto? Allora, io sono una persona che... Anche quando una cosa non gli piace, se l'ha ordinata al ristorante, la mangia. Perché... Sì. Ok? Sì. Quindi anche questa era una cosa che volevo mostrarvi. Qui c'è Ibis. Credo di aver già finito con Ibis. Ok? Invece qui... Mi avete detto di mostrarlo? Ok. Credevo di averlo già mostrato. Ma questa signora... Vi vende i fossili. Quindi se volete comprare i fossili sono qui. Ok? Qui abbiamo... Fossil cranio, tappo, helix, lunghia, mascella. Non che mi interessino più di tanto, però mi avete chiesto di mostrarli e quindi... Beh, li ho mostrati. Adesso... Non siamo mai saliti qua sopra, credo. Quindi forse... Qui c'è un adesivo del dominante. Quanti staffol possiedi? Eccolo qua l'adesivo! 81 su 100. Allora... Alixia, mi parli? Sono la catuna dell'isola, è vero. Ma sono anche una ragazza come tante altre. Ok, quindi nient'altro. Abbiamo già finito questo episodio? Beh, teoricamente l'argomento principale sarebbe dovuto essere, ed è, ovviamente, Morimoto e Iwao. Quindi andiamo a casa di Suiren. Magari trovo qualcos'altro da fare, oppure no. Allora, vediamo un po' qualche adesivo del dominante qua dentro, magari. Oh! Oh! Il ciondolo del giro delle isole! Suiren non c'è, ma dovrebbe tornare presto. Intanto che aspetti? Vuoi giocare? Ok, giochiamo, dai. Evviva! Dai, facciamo una lotta a plumi... Plupi... Multipla, ecco. Evviva, evviva! Giochiamo alla lotta multipla, yuppi! Sei pronta? Allenatorista? Va bene. Tanto è una lotta in doppio, quindi... Ok, nessun problema. Inoltre, credo siano leggermente deboli. Love this che è la... È corso là, pensavo doppio Love Disk. Ok, avranno Pokémon al 50, 5, 60 massimo. Vai! Metagross e Akatosh! Esatto, che vi ho detto. Quindi, andiamo di Martel Pugno, perché io può, e di... Fango Bomba perché io può, perché Love Disk deve sparire dalla faccia della terra. È uno dei Pokémon più... ...del mondo. Parlo di utilità, non di altro. In ogni caso, abbiamo davvero fatto solamente Morimoto e Iwao di importante alla fine. Ad Akala, in effetti, non c'è quasi nulla di importante, a parte, appunto, Iwao e Morimoto. Ci sarebbe, teoricamente, da fare... ...cosa? Vabbè. Prendere qualche MT. E basta. So per certo che ci sono molte cose da fare ad Ula Ula e a Pony. Quindi, dobbiamo farle. Forse è persino più fortissimo di nostra sorella Suiren. E a tal proposito... ...sono tornata. Ah, è Suiren! Evviva! Che bello! Vieni a giocare! Oh, Tonks, che sorpresa! Stavamo giocando le lotte Plut! È proprio fortissimo, sai? Hehe, Tonks, sei stato carino a giocare con le mie sorelline. Suiren, suiren, suiren! Ricordo che lei è una delle mie waifu. Chi è più forte tra te quando fai veramente sul serio è lui? Chi è più forte? Chi è più forte? La mia sorella non è imbattibile. Eh, non saprei. Tonks è davvero forte. Va bene, in sintesi dobbiamo sfidarla. Ed è una cosa positiva, perché lei è l'unico capitano che dobbiamo ancora sfidare. Notate molto bene. Abbiamo sfidato... ...com'è che si chiama? Liam, Kawe, Ibis... Lei manca, appunto. Gli altri capitani che sarebbero. Abbiamo sfidato Chris. Malpi, che è una Super 4. Abbiamo sfidato tutti, tranne lei. Sei pronto? Vai, sì, 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 sì. Sei pro, abbiamo capito che sei pro. Ti voglio sconfiggere. Voglio demolirti completamente. E tu dovresti avere una racqua, ne credo. Comunque non importa. Vai, suiren, che manda in campo... Lanturn. Iniziamo male per me. Perché io adoro Lanturn, ok? Lightbulb l'ho usato su Pokémon Zaffiro. Ed era davvero stupendo. Ma non dovrebbe essere un grosso problema se uso Cozzata Zen, vero? Ok. Cozzata Zen! Smash! Visto? Visto? Arretto. I Lanturn sono abbastanza resistenti. Ok? Arretto un Cozzata Zen, che è Stab, da Nietzsche, che è di livello 75. Tanto per dimostrarvi quanto può essere forte un Lanturn. Di livello 60. È molto resistente. Attenzione solamente alle mosse di tipo terra. E... Credo basta. È debole solo a mosse di tipo terra, vero? Sì, ok. Comunque, Arachuanid, che vi ho detto? Eccolo qua. Allora, lui è un difensore... Speciale. Ergo un attaccante fisico sarebbe l'ideale, ma non ce l'ho. Quindi vai Celtas! Inoltre lei non dovrebbe avere un Pokémon di tipo acquaterra, quindi sto a posto. Ah, inoltre è da tantissimo che non uso Celtas, ora che ci penso. Abbiamo uno scarafaggio volante contro... Non è un ragno. Nonostante Arachuanid sarebbe Arachnid, eccetera, eccetera. Perché non ha otto zampe, ne ha sei. E usa, a quanto pare, anche la mossa Z. Bene, bravissima su Irene. Ma non è bastato. Fulmine! Questo invece basta. Perfetto. Adesso, ultimo Pokémon e poi devo vedere che altro posso fare. Perché, ve l'ho già detto, vorrei evitare di andare a prendere delle MT per dopo storia, perché è un po' inutile, no? Della serie, ok, prendo questa MT, ma dovrei farlo con tutte le MT? A una certa poi mi annoio anche io, ok? Quindi, sto facendo solamente le cose che reputo decenti. Appunto, speravo si potesse incontrare il Mr. Royale un'altra volta, ma a quanto pare non è così perché ho letto male. Eh, che ci volete fare? Ok. Addio Kuroista! E... Abbiamo sconfitto su Irene. Ah, incredibile. Mi hai proprio preso l'amo. All'amo, non l'amo. Che lotta. Non può essere. La nostra sorellona non può perdere. Accidenti. Quell'allenatorista è davvero forte. Tonks, sei incredibile. Tu e i tuoi Pokémon sei in perfetta sintonia. Ho imparato molto da te. Offa, sorellona. Come hai potuto perdere. Non c'è gusto, me ne vado a casa. Anch'io. Sorellona, mi porti sulle spalle? So, bambine, fatele brave. Si torna a casa, si torna tutti a casa, ma ciascuno con le sue gambe. Ma c'è una ricompensa, ok? Ci dà, appunto, un Dente Abissi e una Squama Abissi. Nel caso volessimo, appunto, fare evolvere Clamperl in Gorebis o Houndtail. Ti consiglio, ovviamente, Gorebis, ok? Ok, dieci volte sopra Houndtail. E questa è anche un'altra delle quest che ci consente di apprendere un nuovo stile. Ok? Quindi adesso, dato che voglio appunto mostrarvi l'ultima cosa prima di staccare quest'episodio estremamente corto e forse un po' inutile. Anzi, no! C'è una cosa che ancora non vi ho mostrato. Non siamo ancora andati. Sì, lo so, di ditto, lo so, ok? Solo che non lo voglio fare oggi. Va bene? Comunque. Andiamo un attimo qua dentro nel tunnel Diglett. Perché non vi ho mai mostrato dove è il... eccolo qua. Non vi ho mai mostrato cosa c'è oltre il masso dove bisogna usare forza. Quindi, a questo punto andiamoci. Non che ci sia niente di particolarmente utile. Dovrebbe esserci, credo, una MT. Ma, eh, meglio mostrare la cosa che non mostrare la cosa. Quindi andiamo qua sopra e usiamo forza. Vai, Machamp, spingi questo masso. E poi finirà l'episodio. Molto corto, però Morimoto e Iwao, ripeto, prendono la torta, ok? Sono i veri protagonisti di quest'episodio. Infatti il titolo sarà probabilmente Morimoto e Iwao Game Freak. O qualcosa del genere, mi inventerò io qualcosa. Il punto è... Qua ci sta... Tu cosa... Allora, l'abitante di Kantai? Ok, dicevo. Qua ci sta una MT, ma non c'era anche un adesivo del dominante. Fuoco fatuo può essere buona, quindi ho fatto bene a prenderla. Non c'è anche un adesivo... Eccolo qua, visto? 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 E qui non si può andare, ok? L'unico modo per raggiungere questo faro è appunto prendere la via secondaria. No, non voglio usare questo perché adesso andremo alla spiaggia e andremo a prendere l'ultimo Pokemon dominante. Che non è l'ultimo, ma... Beh... Questo Pokemon dominante, ok? Allora... Caro, dove sei? Eccoti qua. Ciao Tonks, ti aspettavo. Hai raccolto 82... Oh mio Dio. Hai raccolto 82 adesivi del dominante. Se non ricordo male, il tuo obiettivo era arrivare a 80, giusto? Eccoti un Mimikyu grande come il Pokemon dominante. Yes! Perché da quello che so, i Pokemon dominanti credo cambino in base alla versione. Quindi noi ci becchiamo Mimikyu. Voi invece vi beccate in Pokemon Ultraluna? Non ne ho la più pallida idea. So solamente che abbiamo registrato questo Mimikyu e stiamo freschi. E' un Pokemon tranquillo che soffre di solitudine. Se qualcuno cerca di sbirciare, non sbriciolare. Oddio. Sotto il panno che lo nasconde, si oppone con forza. Nessun soprannome. E... Vi dico subito che, nella prossima parte di Pokemon Ultrasole, dato che abbiamo già fatto la maggior parte delle cose che sto leggendo qui, andremo a fare... Le quest che non ho fatto. Quindi se è possibile andare a fare la quest dei ditto del mistero della scuola per allenatori e di Mimikyu, perché così andrò a prendere anche... Di che stai parlando? Rotom. Volevo cliccare su di... Come ho fatto a prendere un revitalizzante? Volevo prendere una cosa sul Rotom Roll. Comunque... Credo sia possibile prendere anche adesso il cristallo Z di Mimikyu. Ecco. Quindi, forse andrò a prendere anche quello. Oltre a fare un rapido giro di hula hula per controllare le ultime cose. Quindi, ribadisco, noi ci vediamo. Parte breve? Sì. Vi interessa? No. See you next time! BLEH! Grazie a tutti.